Salve ragazze e benvenute nel mio canale, io sono Zahira e sui tarocchi, siete qui in questo mio nuovo format natalizio, pre-natalizio di dicembre, che appunto è dedicato a fate voi la domanda. Quindi io sto facendo dei piccoli interattivi molto brevi dove appunto esaudisco le vostre domande. Qual è la domanda di oggi? Tra quanto si farà vivo la persona di un interesse? Quindi lo farò con i miei canale carte verdi di Zahira e con i tarocchi della strega argentata. Quindi tra quanto si farà vivo questa persona che a me interessa? Ovviamente voi sapete che io specialmente in maniera proprio ossessiva vi dico che i tempi non esistono nei tarocchi. Quindi diciamo che non è che uscirà qua un tempo, una data, un mese, due mesi, no. Diciamo che dalle carte vediamo se questa persona si farà viva fra molto tempo o fra poco tempo se le carte ce lo fanno capire. Oppure comunque se uscirà che si farà vivo tenete conto che una stesa può avere una durata massima di tre mesi. Ok? Allora andiamo a vedere quindi si farà viva questa persona con voi? Si farà viva? Si farà vivo? Vediamo eh? Allora andiamo a vedere prendiamo le nostre carte. Qui abbiamo un 5 di coppe. Abbiamo la carta della giustizia e abbiamo gli amanti. Certamente si farà, abbiamo la regina, no scusatemi il re di coppe. Si ragazze si farà vivo, è sicuro che si fa vivo. Qua c'è stato un allontanamento però lui è pentito per cui adesso c'è questa giustizia e mezzo. La carta degli amanti lui adesso è sicuro di volere darvi questo amore. Re di coppe finalmente il suo amore è come dire. Qua so che ti ho fatto del male. Quindi ragazze di farsi vivo si farà vivo sicuramente. Vediamo adesso insomma la velocità. Allora qui escono delle carte. Non mi lasciare, resta con me. Voglio fare l'amore con te. Prendiamo ancora un'altra carta. Se esce, vi dicevo qua vi darà giustizia questa persona. Questo dopo l'allontanamento con i 5 di coppe. ha capito, ha rimpianti, ha rimorsi, sente molto la vostra mancanza. Quindi ha capito con la giustizia e è sicuro per lui. Quest'amore ha capito di essere innamorato di voi. Per cui sicuramente questa persona voglio solo sesso da te, non voglio impegnarmi. Qua vedete, questo ha capito, però mi piace da impazzire. Allora questa persona ha capito che ovviamente è molto legato a voi. Vedete, so che vi ha fatto del male. Non mi lasciare, resta con me. Voglio fare l'amore con te. Voglio solo sesso da te. Però, ragazze, da queste carte che mi sono venute fuori, anche qua mi piace da impazzire. Diciamo che lui probabilmente ha più che altro, ha per voi un'attrazione sessuale. Ancora continua a non volersi impegnare. Probabilmente forse è innamorato ma non se ne vuole rendere conto. Oppure non vuole avere comunque un impegno. Ma io qua vedo più che altro, perché vedete comunque, a differenza del fatto che dice non voglio impegnarmi, voglio solo sesso da te. Però qua dice, è pentito, sa che vi ha fatto del male, non mi lasciare, resta con me. Quindi comunque l'attrazione è forte, è molto forte. Per cui andiamo, diciamo, ad aggruppare la risposta. Si farà vivo? Tra quanto si farà vivo? Io penso che questa persona si farà vivo abbastanza in fretta. Perché comunque è motivato da questo desiderio di voi e quindi si metterà in moto sicuramente per venire verso di voi. Io penso che nel giro di due o tre mesi questa persona si farà viva con voi, è molto presa, molto presa. Ora qui o nasconde a se stesso i suoi sentimenti oppure nasconderà a voi i suoi sentimenti oppure vi farà credere di essere innamorato e invece è soltanto molto legato a voi però alla fine o potrebbe essere innamorato ma non si vuole impegnare. Sapete, gli uomini oggi sono tutti strani. Quindi insomma poi ricuscite la situazione secondo la persona che voi frequentate. Comunque la risposta è che si farà vivo tra quanto due o tre mesi questa persona è sotto casa vostra. Ciao a tutti dalla vostra Zaira. Grazie. Grazie. Grazie.